firma se la fa è caduto qualcosa? no vai 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 c'è per me Franco Causa è la prima fatica letteraria come sono andati i primi sei mesi di presentazione del libro? bene bene molto bene? sì, abbastanza lei nella sua carriera non le è mai venuto voglia di fare l'allenatore? ho fatto qualcosa d'altro, ho fatto il dirigente, quindi ho fatto il commentatore tempo ho il patentino dell'allenatore di UEFA, il patentino di direttore sportivo quindi per la mia cultura ho fatto anche dei corsi per aggiornarmi, questo è molto importante l'Italia adesso ha gli ottavi di finale, che strada farà secondo lei? spero tanta lo sappiamo chi sarà la prossima avversaria ragazzi giovani, visto che forse, che forse per quelli della mia generazione, sono nato nel 1981 lei a chi assomiglia del calcio attuale? a nessuno, perché non esiste più il mio ruolo esistono esterni alti, esterni bassi ma alla destra come me, come Bruno, come Sala non ci sono più e perché non esiste più nel calcio di oggi? non ho fatto una domanda alle società attuali, non a me grazie tante grazie a te